Angeletti, Amoriani, Amoriani, sì, 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 allora qui c'era la maternità infanzia, no? Sì, la maternità infanzia, e questo è l'842, allora qui ci sono morte 20 persone, 20 donne qua, con i ragazzini, con il bombardamento, 7 marzo, mortacci loro, qui era tutta la campagna, c'era un cazzo, c'era la Marana, qua, laggiù c'era il Ponte dei Ferro, quando ci passava il tram, io i primi bagni alla Marana, mi sono imparato qui a Notaio, poi andammo a Fiume da Capocetta, andammo lì dove De Sica ci ha fatto quel film bellissimo, la Magnani, dove proprio stavano la Magnani con il coso che parte chiari, i rivoli, a chiacchierare, a quel punto lì noi, se facevamo il bagno proprio lì, a quel punto lì, pensa un po' te quanto tempo è passato, io ci ho lavorato, io ci ho fatto la comparsa con quel film penso, si e che facevi? La comparsa lì, lì tu, vabbè che riconoscete, si si pensa che l'aiuto regista era cosa, era Francesco Rosi, era Ricci, ero due aiuto registi di Viscotti, Ricci e Francesco Rosi, che che era, agli anni 50? E che cazzo mi ricordo io ragazzini, non mi ricordo, veramente amore, il film è bellissimo, non mi ricordo in che anno, io si mi ricordo, da Capocetta, da Capocetta, da Capocetta, io nel 50 sono entrato a via Margutta, al doppiaggio nel 50, ho cominciato a imparare e poi ho passato la ricordista e guadagnavo il tribo perché mi vennevo la pellicola, ma venivo sì, pure il bandito sei stato? No, no, la pellicola di clienti che si spregava, io non la spregavo, mi la mettevo da parte da chi gli serviva, ma venivo. E così si può fare? E ti credo, tanto, mica rubavo un cazzo a nessuno, però erano incerti del messiero. Ma questo ancora è chi? Ancora nemmeno a me, no, no, è chiuso, c'è la luce accesa, ma è chiuso. E certo, la vengono accesa per sicurezza, fa l'antium che è buio. Qui c'è la lente comunale di consicurazione, c'è il vino dei fasciati, e al covonello mio a Milano gli dicevo che piava i vigni dei fasciati da Missio, che portavo l'annacolato, ma tanto quello beva pure la benzina, che cazzo? Però diceva a tutti gli ufficiali, a me mi portano il vino dei fasciati dalle vigne, sì, col cazzo. Vabbè, comunque, con l'ugenta, basta, basta. Che basta il cazzo, stai qui? Qui di vicino, c'è qui, se no, posso non lo trovare. Ecco, aspetta che tu scendi, piano piano. Ma devo scendere io adesso? Ciao tesoro, ciao. Buona serata. È stato un piacere avermi. Il piacere è sempre mio vederti. Ciao cara. Ciao. Ciao a domani. Però sogna tre fila che non ti spuso. Vabbè, aspetta che si arriva la macchina. Meno male che già c'è un'altra, se no era rimassata. Io.